Buongiorno, oggi parliamo di una grandissima innovazione nel mondo degli adesivi per parquet, una nuova matrice ibrida organica hard elastic, frutto dell'esperienza SLC e della ricerca Green Lab Kerpoil. Questa nuova matrice ibrida organica minerale si basa sulla fusione tra la resina polimero MS e un innovativo micro inerte a silice attiva. Negli adesivi per parquet monocomponenti tradizionali gli inerti sono usati come sostanza inattiva per dare volume e consistenza all'impasto e al prodotto finito. Nell'adesivo fresco gli inerti sono avvolti dalla resina e nelle fasi di indurimento vengono legati fisicamente dal reticolo e dalla massa formati dalla resina stessa. Le prestazioni finali sono date principalmente dal rapporto tra resina ed inerte e dal legame fisico che si crea tra di loro. La nuova tecnologia Keracool si basa sulla resina e su un innovativo inerte a microsilice attiva. Questi due elementi oltre a legarsi fisicamente si saldano anche chimicamente formando una matrice ibrida organica minerale dalle prestazioni meccaniche altissime ma allo stesso tempo dal comportamento elastico. Questo speciale inerte rimane inattivo nel prodotto fresco ma entra in azione quando il prodotto comincia ad indurire. Collaborando con la resina agisce come un turbo accelerando e migliorando le prestazioni del sistema. Il nuovo sistema messo appunto dai ricercatori Grillab Keracool è alla base del nuovo adesivo monocomponente per parquet L34i. Un adesivo classificato hard elastic secondo la norma ISO 17178. Un adesivo dalle prestazioni elastomeccaniche uniche che vanno oltre la normativa. Secondo noi il perfetto bilanciamento tra forza ed elasticità. Oltre a queste prestazioni tecniche uniche nel loro genere questa nuova matrice ibrida organica minerale ci ha permesso di eliminare definitivamente quelli che sono i limiti degli adesivi monocomponenti di vecchia generazione o di bassa qualità. Quindi adesivi che fanno pelle subito ma poi a spessore non induriscono. Adesivi che hanno molti limiti tecnici e soprattutto non sono affidabili nel tempo. L34 Hybrid è un adesivo per parquet con rating 5 esente da solventi all'etichettatura di rischio, tipo allergenico e a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. L34 Hybrid è l'adesivo pensato per i professionisti della posa. Nato per soddisfare le nuove esigenze imposte dalla moltitudine di formati, tipologie di parquet e di fondi che troviamo in cantina. In una giungla di adesivi monocomponenti una scelta chiara, semplice e affidabile. Per maggiori informazioni consultate la nostra guida a sistemi di posa parquet sul nostro sito carecool.com. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.